Mi riallaccio davvero a braccio alla questione delle due vertenze e soprattutto alla questione delle due filiere perché giustamente Grafica Veneta arriva qualche anno dopo Stradella che non so se vi ricordate è la grande vertenza nei magazzini della logistica del libro vicino Torino e anche là appunto Grafica Veneta stampa la maggior parte dei libri italiani e europei in parte e a Stradella in realtà vengono smistati sostanzialmente monopolisticamente i libri che poi attraversano le nostre cose. Le nostre librerie, le case, le biblioteche, quelle che sono rimaste aperte. Allo stesso modo quando parliamo appunto Dario Giustamenti diceva la mobilità che deve attraversare giustizia sociale, giustizia ambientale ma anche un modello produttivo e industriale diverso non può che richiamarci se vogliamo al trasporto pubblico locale cioè le condizioni di lavoro dentro e fuori se vogliamo il meccanismo del trasporto non individualizzato ma che diventa un bene essenziale. E quindi andiamo a parlare necessariamente di filiere dove appunto intervengono gli appalti a tutti i livelli, appalti nei servizi essenziali diciamo noi che magari per me vale anche il libro come servizio essenziale ma se andiamo a guardare la vita quotidiana cioè proprio l'essenza della sopravvivenza dei singoli ma anche delle comunità non possiamo non fare il parallelo su filiere che poi attraversano la società intera. Per esempio ricollegarci alla questione dell'editoria e appunto Sergio Bologna è sempre una persona avanti sia intellettualmente ma anche dal punto di vista organizzativo se pensiamo a Redacta, cos'è Redacta? è un'associazione che nasce come auto-organizzazione di tutte le figure intermedie dentro la filiera delle editorie quindi i traduttori, gli illustratori, chi fa il correttore di bozze eccetera eccetera che di fatto sono tutti lavoratori e lavoratrici non esternalizzati ma fortemente individualizzati dove i contratti vanno dal cottimo a se ti va bene proprio la partita IVA dove però appunto in una fase in cui ci si dice sempre no ma siamo troppo disorganizzati ormai no il capitale ha vinto è andato in qualche modo ad abbattere anche quelle che potrebbero essere le ultime resistenze di collettività noi vediamo che queste collettività emergono. Ora appunto l'esperienza che ho avuto io negli ultimi anni è quella non soltanto di incontrare comunità come per esempio la DL a Padova che ci siamo ormai conosciuti di anni ma in realtà molte più persone non politicizzate che però intervengono e fanno partecipano in qualche modo attivamente lì dove si parla delle loro condizioni di vita. Di vita e di lavoro perché a che se ne dica la gente nella maggioranza della società bisogna di svegliarsi la mattina e andarsi a guadagnare il pane e davvero fa sempre più fatica a mettere insieme il pranzo con la cena e poi anche là estendendo la questione in modo davvero di società e di politica alla questione per esempio della casa, alla questione del trasporto perché quando oggi pensiamo a quello che è il costo dell'energia ma anche del carburante non possiamo non rimettere in discussione la mobilità ed è una discussione che noi facciamo da anni, arriviamo adesso con l'urgenza e non c'è nessun dibattito strutturato che apra proprio la prospettiva di una questione diversa e poi però parliamo tutte di figure come dico sempre io su cui è vero che è difficile tante volte come dire oltrepassare gli steccati organizzativi in questa fase politica che poi in Italia è piuttosto deleteria perché se fosse soltanto disfunzionale già uno saprebbe da dove partire ma in realtà sono tutte figure che hanno delle questioni in comune cioè dicevo prima l'affitto ma dici allo stesso modo il salario, dice la stessa maniera gli appalti nei servizi pubblici essenziali perché non è normale e questo ce lo dobbiamo dire cioè da un lato abbiamo avuto questo abbandono della politica industriale nel nostro paese, sono passati 35 anni, produciamo sempre meno e sempre di meno valore e di conseguenza se vuoi competere perché poi stai dentro un sistema che compete a livello internazionale, se competi sul basso della qualità non vinci su chi scarichi, scarichi sui lavoratori ma allo stesso tempo abbiamo avuto altri due grandi fenomeni il primo è il taglio della spesa pubblica che significa davvero medici, infermieri e ce ne siamo accorti tutti nella pandemia però abbiamo smesso di parlarne, arriva un altro taglio per esempio nel settore della scuola sappiamo benissimo che decine di migliaia di lavoratori nella scuola guadagnano per nove mesi salari da fame tra i più bassi d'Europa e soprattutto come dire stipendi che non migliorano mai nel tempo cioè un'altra delle grandi cose che ci vogliamo dire in questo paese non è soltanto il livello salariale di partenza o le condizioni di lavoro di partenza e che rimangono tali per 10, 15, 20 anni questo è un problema, questo fa sì come dire che la deflazione salariale è un continuum di lungo periodo e se volete è vero che ancora ci continuano a dire che i conflitti tra giovani e vecchi perché i vecchi guadagnano di più, perché si sono potuti permettere la casa in realtà piano piano va a accorciarsi perché le generazioni precarizzate non sono soltanto le ultime ma ormai abbiamo cominciato circa 20 anni fa e allora da questo punto di vista un discorso che giustamente come dice Dario di rimettere in discussione se vuoi da un lato il corporatismo dall'altro la settorialità è proprio di guardare sia in modo orizzontale parliamo della logistica che sia del libro ma che sia anche davvero tutta la grande distribuzione ma che sia anche logistica di pezzi di magazzino per l'industria perché di questo si tratta, la logistica va ovunque, è un perno dall'altro lato però anche dal punto di vista verticale perché per esempio secondo me una delle più belle esperienze degli ultimi anni è quella di mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali che adesso se ne parla tanto, io ricordo che loro hanno un percorso molto simile a quello di Redacta però senza Sergio Bologna alle spalle possiamo dire che loro cosa fanno? Cominciano a dirsi scusate sono sostanzialmente i lavoratori dei beni culturali dagli archivisti, bibliotecai, gli archeologi hanno cominciato a dirsi ma perché viviamo così? Sostanzialmente loro sono quelli per cui è stato sdoganato anche il lavoro gratuito cioè il volontario nei beni culturali è una grande figura portata davvero in pompa magna in quasi tutti i bandi del ministero dei beni culturali e hanno prodotto subito un questionario di autoinchiesta cioè tu come lavori e come guadagni all'interno del settore dopo cinque anni sono diventati una grossa organizzazione a livello nazionale che fa una cosa molto intelligente che loro riconoscono in termini di classe cioè noi sappiamo che abbiamo un problema salariale di condizioni di lavoro e quindi di inquadramento e poi ne abbiamo anche un altro che è quella della democrazia noi non possiamo pensare che le biblioteche chiudano non lo possiamo pensare per un fattore di democrazia le biblioteche aperte nei comuni, nelle periferie perché l'Italia è fatta di provincia servono a dare accesso alla cultura a chi non se la può permettere quindi loro cosa propongono e questo secondo me è anche un fatto interessante di come proposte strutturali in questo paese esistano un servizio culturale nazionale cioè ci dovete assumere, internalizzare tutti perché è una cosa che appunto nessuno sembra voler discutere eppure è sul piatto e lo fanno proprio dicendo non è vero che siamo gli archeologi cioè professioni liberali che vogliamo sempre stare sul piedistallo lo facciamo dicendo che siamo lavoratori e che davvero vogliamo essere protagonisti di un futuro altro che restituisce un bene essenziale come la cultura dentro la società e lo vogliamo fare in termini conflittuali quindi vuol dire dal non politicizzato e super individualizzato esistono grandi esperienze piccole o grandi in questo paese che però piano piano si costruiscono vuol dire a me dicono sempre ma tu sei tanto ottimista non per niente però bisogna anche essere un po' realisti se queste cose avvengono significa che davvero non se ne può più di vivere altrimenti grazie a tutti 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 Grazie a tutti.